Sto rilevando attività sismiche su tutta l'isola di Arkham. Tutto bene? Le piante di Ivy stanno avendo il sopravvento. Devo fermarle se voglio evitare che l'isola resti sepulta. Sto rilevando attività. 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 Aspetta, vengo con te! E dai, vi ho dato tutto! Pianche, bombe, libertà! Ed è così che vi ripagate! Veritate tutto quello che vi farà! E dai, su, dove sei? 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 Troviamo tutto quello che saremo noi, capito? E dai, su, dove sei? 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 Sì, non lo so farà nessuno. Sì, non lo so, non lo so. Sì, 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 non lo so. 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 Chiudi il becco, stupido vecchio. Fatemi uscire di qui! Ehi, dolcezza. Che cosa sta succedendo nella tua testa, Will? Sì, è andato. Sì, è andato. Non lo so, non lo so, non lo so. Che cosa è andato. Che cosa è andato. che cosa stai cercando? Che cosa è andato. Che cosa è andato. Che cosa è andato. è andato. Che cosa 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 è andato. Ciò magari è andato. Stai resistendo! Così indebolisci la forza di volontà. Quanto credi di poterti sopportare? Ti spaventa sapere che ti ho quasi sconfitto? No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per dimostrare, riempirò le catacombe con abbastanza gas allucinogeno da devastare elementi di Gotham per almeno cento anni.